Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Proseguono le indagini finalizzate ad identificare i responsabili dell'incendio appiccato nella giornata di ieri all'interno degli uffici amministrativi della cittadella della ricerca. A fuoco una rilevante sezione di documenti importanti relativi a bilanci e ad attività del consorzio. Facciamo il punto con Stefania Franciosa. Sono a lavoro gli agenti della Digos della Questura di Brindisi per raccogliere elementi che possano portare all'identificazione dei responsabili dell'incendio appiccato nella tarda mattinata di ieri negli uffici amministrativi della cittadella della ricerca ubicata lungo la strada statale 7 tra Brindisi e Mesagna. Non si hanno comunque dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio o gli uomini della polizia scientifica avrebbero trovato incastrato in un cassetto il giornale utilizzato per appiccare il fuoco. Ingenti i danni alle strutture, all'arredamento ma soprattutto alla documentazione, cioè ai progetti, ai bilanci, alle attività sia del vecchio Pastis sia della cittadella della ricerca. L'attentatore o gli attentatori si sarebbero introdotti poco prima di mezzogiorno nell'ufficio di presidenza del consorzio, sede anche della società Santa Teresa. Due le stanze interessate dalle fiamme, poste sotto sequestro dai poliziotti della Digos. Sul posto ieri anche il presidente di missionario della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese. Eravamo sulla strada giusta, è stato il commento di Ferrarese, il quale attraverso la sua pagina di Facebook ha ricordato il proprio impegno sulla questione cittadella. Ho iniziato circa due anni fa a vederci chiaro, gli sprechi erano enormi, ha detto l'ex presidente. Dopo aver fatto tanta pulizia e tante battaglie, ho riportato la cittadella inutile, dopo che era costata milioni di euro alle casse della provincia e quindi ai nostri cittadini. Intanto oggi consiglio provinciale monotematico, chiesto dalla commissione di inchiesta interna all'ente per relazionare sui bilanci e sui conti della cittadella. Parliamo ancora di cronaca, attimi di terrore ieri mattina in Via Teano a Montalbano di Fasano, dove sei uomini armati e incappucciati hanno sventrato il muro dell'ufficio postale, portando via l'intera struttura del postamat ritrovato poi vuoto in località Pilone, a pochi chilometri dalla frazione fasanese. Ce ne parla Mariangela Boccia. Sarebbe stata la ormai nota banda dell'Audi a trafugare domenica mattina l'intero bancomat dell'ufficio postale di Montalbano di Fasano, contenente, secondo i primi rilievi, circa 35.000 euro. Un commando composto probabilmente da sei uomini armati e incappucciati ha agito intorno alle 5 del mattino in Via Teano, minacciando e terrorizzando alcuni passanti. Un camion fornito di gru è servito per sventrare il muro e portare via l'intera struttura del bancomat. Nessuna traccia nelle immagini delle telecamere presenti. I rapinatori hanno oscurato l'obiettivo. Nella stessa mattinata gli agenti del commissariato di pulizia di Ostuni hanno ritrovato in zona Pilone sia il carro attrezzi utilizzato dai rapinatori che risulta rubato il 19 ottobre a Francavilla Fontana, sia i resti del bancomat. Nessuna traccia però delle banconote che dovrebbero essere inutilizzabili in quanto sarebbe entrato in funzione il sistema antifurto, ovvero una colata di vernice verde che le macchierebbe in maniera indelebile. Le tracce trovate sul dispositivo confermerebbero il funzionamento. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Fasano e gli uomini della scientifica. È ricoverato in proniosi riservata ma non in pericolo di vita il 37enne ostunese che all'alba di ieri ha perso il controllo della sua Smart mentre percorreva la Statale 16 proprio all'altezza dell'ingresso della città bianca andandosi a schiantare contro un muretto a secco. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione all'origine dell'incidente che ha provocato diversi traumi al capo e all'addome al guidatore subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e poi immediatamente trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118 di San Vito dei Normanni. Nessuna grave conseguenza per l'altro passeggero a bordo della Smart, un 26enne di Mesagne, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Parliamo ancora di cronaca perché i militari della compagnia della guardia di finanza di Brindisi nell'ambito di specifici controlli effettuati all'interno dello scalo marittimo di Costa Morena in collaborazione con i funzionari della Dogana, la Capitaneria di Porto e gli operatori dell'ASL hanno sequestrato una tonnellata e mezzo di molluschi, tracozze, noci, ostriche e vongole sprovvisti, come vediamo nella foto, di documentazione commerciale nonché della tracciabilità igienico-sanitaria per un valore complessivo di circa 10.000 euro. I molluschi sono stati scoperti all'interno di un furgone frigo appena sbarcato dalla motonave Sorrento proveniente dalla Grecia. Successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, la Capitaneria di Porto ha provveduto alla remissione in mare dei prodotti ittici. Voltiamo pagina sopra luogo questa mattina nel cimitero di Brindisi del sindaco Mimmo Consales e dell'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ecclesi. Obiettivo verificare lo stato in cui versa l'area cimiteriale, con particolare riferimento alla questione rifiuti e alla presenza dei cantieri per la realizzazione di nuove opere. Intanto il 31 ottobre verrà consegnata alla città la nuova chiesa. Vediamo. Verificare con i propri occhi la situazione in cui versa il cimitero di Brindisi con questo obiettivo il sindaco Mimmo Consales, l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ecclesi hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nell'area cimiteriale, a pochi giorni fra l'altro dalla ricorrenza della commemorazione dei defunti. Diciamo che questo sarà, come annunciato a suo tempo, sarà il sistema con cui noi opereremo in tutti i settori. È evidente che io e l'assessore Ecclesi abbiamo voluto forzare un attimo la mano partendo dal cimitero, proprio in occasione della ricorrenza dei morti. E da qui questa presenza oggi che ha visto impegnate tutte le aziende interessate, cioè la DR che gestiona il cimitero, la Monteco, la Multiservizi, ovviamente la Polizia Municipale che sta facendo controlli in massa oggi con 5 pattuglie presenti all'interno del cimitero e poi tutti gli uffici interessati, i lavori pubblici, gli altri settori interessati. Io penso che una società e una città che non rispetta i morti è assolutamente non in grado di rispettare i vivi e quindi il decoro del cimitero rappresenta sicuramente una priorità per noi anche sulla base delle legittime aspettative delle tante proteste da parte dei cittadini. Noi abbiamo trovato una situazione non semplice in cui c'è stato tanto lassismo, a dire la verità, perché se da un lato abbiamo visto che la pulizia del cimitero è sicuramente buona, perché i cittadini potranno constatarlo, c'è stato già un primo sostanzioso intervento di Monteco Multiservizi, dall'altro però abbiamo constatato che è terra di nessuno per quanto riguarda i lavori nel cimitero nuovo, nel senso che magari le imprese avranno pure una autorizzazione da questo punto di vista. Però poi se lo smaltimento del materiale di risulta non avviene, oppure viene depositato e abbandonato nei viali del cimitero, qualcuno dovrà pure controllare. Siccome l'azienda che ha in gestione il cimitero ha tra i suoi compiti quello del controllo, io voglio sapere, l'assessore Ecclese vuole sapere, se noi veniamo alle 10 di mattina, quante e quali imprese stanno lavorando all'interno del cimitero, sulla base di quali autorizzazioni, mentre daremo immediatamente disposizione all'ufficio urbanistica di controllare dove è stato eseguito e come è stato eseguito lo smaltimento del materiale di risulta. Altrimenti tutto questo diventa un problema irrisolvibile e come al solito poi paga pantalone, perché poi il materiale di risulta per ripulire adesso il nuovo cimitero dal materiale abbandonato di risulta, ci toccherà spendere tanti soldi, allora non è giusto che la comunità paghi per le disfunzioni provocate da altri. I controlli saranno sicuramente più puntuali e precisi con una nostra presenza sul cimitero. Tutte le aziende che operano all'interno del cimitero, mi risulta che quotidianamente non c'è una verifica su chi entra e chi opera attivamente. Io interesserò anche i colleghi degli uffici ispettivi perché si faccia una verifica del personale dipendente, perché mi risulta che all'interno del cimitero operino anche lavoratori in nero, quindi è inconcepibile che in una realtà come questa si possano realizzare situazioni di questo tipo. Parliamo ora di politica e Giuseppe Tagliente, espressione dei giovani democratici, il nuovo segretario cittadino del PD di Ostuni. Un'elezione, la sua avvenuta all'unanimità nel corso del congresso comunale del Partito Democratico, dopo il ritiro delle altre due mozioni presentate a sostegno di Pierluigi Sozzi e di Gianna Ciaccia, il servizio di Francesco Roma. È stato un congresso unanimi che ha premiato una mozione che vuole dare una spinta nuova al centrosinistro sunese e al Partito Democratico, che vuole mettere al centro il luogo collettivo di dibattito e di discussione interna, rispettando le diversità di ognuno, ma animati tutti quanti da uno spirito unanime di valori e principi che ci devono guidare nella costruzione di un centrosinistra nuovo fondato sul ruolo dei partiti, nel rispetto della carta di intenti di Pierluigi Bersani e delle esperienze amministrative positive che si sono innescate con l'unione di centro a livello territoriale e al tempo stesso che deve costruire un percorso che ci porti alle elezioni primarie da qui ai prossimi mesi per poter individuare un nuovo candidato sindaco e poter costruire un programma assieme alla coalizione che ci permetta di concludere questa esperienza amministrativa nel migliore dei modi e al tempo stesso di recuperare il nostro ruolo di leadership all'interno della città. Questa è una tua dichiarazione di ieri, domenica, proprio all'atto del tuo insediamento ai vertici della segreteria cittadina del PD, è quindi una dichiarazione a caldo, immagino non sia cambiato granché oggi e lunedì, ma la domanda è squisitamente campanilistico locale per così dire, sai che c'è un modo di dire tra noi ostunesi ed è questo, te lo in avanti, continuerai ad essere te stesso nonostante questa grande responsabilità che ti è stata affidata? Io ho un brutto difetto, quello di essere fin troppo coerente penso, qualche volta questa coerenza mi porta ad essere troppo testardo, di guastarmi non mi guasterò, questo è poco ma è sicuro, quando ci sono dei valori e dei principi che vengono affermati a maggior ragione in un congresso rispetto al quale valori e principi vengono condivisi da una platea congressuale, da iscritti, da dirigenti, da rappresentanti istituzionali, è difficile cambiare rotta, certo per non rompere questo bel equilibrio che si è creato e questo entusiasmo che da ieri ha iniziato nuovamente a farsi sentire è necessario costruire una squadra, è necessario che il Partito Democratico continui ad essere unito più di ieri rispettando le diversità, rispettando le specificità di ognuno ma ricordandoci tutti quanti che siamo parte della stessa famiglia e che nel rispetto delle persone, nel rispetto delle idee di ognuno è possibile costruire qualcosa di grande, è possibile riaffermare un ruolo di leadership, è possibile dettare l'agenda politica con la realtà di sempre e con la determinazione di sempre. Ecco questo è l'obiettivo, continuare ad affermare determinati principi e determinati valori nell'unità del partito e soprattutto con un pezzico di freschezza in più dal congresso di ieri. Da Ostonia a Martina Franca dove l'approvazione del progetto definitivo di ammodernamento della statale 172 è sancita in Consiglio Comunale genera la legittima soddisfazione del Partito Democratico e in primis del consigliere regionale Donato Pentassuglia che ha seguito passo dopo passo l'iter dell'opera in attesa ora della sua cantierizzazione da parte dell'ANAS. Un passo decisivo verso il completamento di un'opera fondamentale nel piano generale di razionalizzazione è messa in sicurezza del sistema viario territoriale. Così a ragione il consigliere regionale del Partito Democratico Donato Pentassuglia, presidente della quinta commissione consigliare, commenta il via libera garantito dal Consiglio Comunale di Martina Franca al progetto definitivo di ammodernamento della statale 172. Il piano di interventi ora passa sulla scrivania dell'ANAS chiamata ad appaltare l'opera. Un provvedimento, quello adottato dalla Sise Consigliare, la cui importanza è stata rimarcata in una conferenza stampa svoltasi nella sede del Partito Democratico. Penso abbia fatto bene il partito a far sapere i cittadini, a coloro i quali non hanno seguito il Consiglio Comunale che siamo alla fase finale. Abbiamo fatto tutti gli adempimenti, c'è la delibera CIP del finanziamento, il Ministro ha fatto l'ispezione, ha ritenuto l'opera prioritaria con basse criticità e quindi non ci sono più alibi per nessuno. Adesso chiediamo che l'opera venga appaltata. Quindi il Consiglio Comunale ha dato in là definitiva un progetto che meglio si insinua nel tessuto economico e produttivo, ma soprattutto in quello paesaggistico del nostro territorio, mettendo in sicurezza un'arteria importantissima che è l'unico collegamento tra ioni e adriatico. Noi in Consiglio Comunale abbiamo approvato il progetto dell'ANAS e adesso in regione, siccome si tratta di una variante output, ci sarà l'approvazione di questa variante e dopodiché ci sarà l'esecuzione dei lavori e quindi della messa in sicurezza del tratto San Paolo Martina Franca e la realizzazione delle quattro corsie da Delorimini. Sul tratto San Paolo Martina Franca avremo due rotatorie che metteranno in sicurezza il tratto stradale, una sarà realizzata in prossimità di San Paolo, l'altra presso il centro Carni. Dopodiché in via Locorotondo avremo la rotatoria presso le cantine di Marco e l'altra insisterà in prossimità della benzina Kuwait in via Locorotondo. Incassato il sì da parte del Consiglio Comunale al progetto definitivo di ammodernamento della 172, nelle prossime ore il consigliere regionale Pentassuglia incontrerà insieme al sindaco Franco Ancona, il presidente della provincia di Taranto Gianni Florido, per definire la convenzione per la nuova circonvallazione, piano su cui la seconda commissione consigliare si è già espressa positivamente e del quale si occuperà a breve il Consiglio Comunale. Obiettivo quello di accelerare l'iter autorizzativo dell'intera opera per la quale è stato garantito dal Cipe uno specifico finanziamento di 15 milioni di euro. L'azione non si ferma qui perché oltre questo finanziamento preso già con la stessa delibera il finanziamento per la circonvallazione di Martina e la commissione consigliare ha già dato il parere positivo alla unanimità. Questo è altro provvedimento importante che il Consiglio deve adottare immediatamente perché la città sappia di questa idea di pianificazione e di programmazione e c'è un lavoro di cinque anni fatto con diverse persone anche con amministrazioni precedenti che devono essere il segnale per i cittadini in un momento particolare che c'è una politica seria, la politica può dare le risposte, la politica è questa e questa è una pagina di buona politica.